In apertura l'incontro tenutosi sabato 18 marzo al centro congressi di via Enrico Fermi a Vicenza sul tema dell'autonomia della regione Veneto, organizzato in seguito alla notizia del disegno di legge proposto dal ministro Calderoli. Abbiamo raccolto il commento dei presidenti rispettivamente di Confartigianato Imprese del Veneto e di Vicenza, Roberto Boschetto e Gianluca Cavion, e del presidente del Consiglio regionale, Roberto Ciambetti. Abbiamo organizzato questo incontro affinché a livello regionale possano i nostri colleghi artigiani capire e conoscere meglio quello che appunto il ministro Calderoli presenterà al Parlamento e quindi sarà punto di riferimento per noi, anche perché è un tema molto caro a noi veneti e a noi artigiani. Ricordo che nel nostro Veneto la votazione su questo tema fatta ancora alcuni anni fa ha avuto un riflesso importante per cui riteniamo altrettanto importante poter conoscere quelle che potrebbero essere delle opportunità per il nostro Veneto, ma soprattutto per le imprese anche artigiane, perché la ricaduta dopo ovviamente è anche nell'economia, oltre che nelle nostre famiglie. È un piacere che sia qui a Vicenza, anche perché nel referendum del 2017 la provincia di Vicenza è stata la provincia con un'incidenza di voto importante, oltre il 63% e con quasi un prebescito di sì per quanto riguarda l'autonomia. E questo oggi serve per farci capire e conoscere meglio quelle che sono le opportunità, ma soprattutto quello che deve essere il modo di operare e di investire bene i soldi che sono a disposizione, ma soprattutto i soldi che arriveranno anche dal PNRR per saper spendere i beni cercando di collocarli in una maniera che creano volano e possibilità di crescita per tutto il nostro Paese Italia. Gli interessi della piccola impresa e avere un'amministrazione più vicina al cittadino è secondo noi più efficiente. Abbiamo la presunzione di saper fare qualcosina di meglio rispetto a quello che fa qualche ministero. Faccio un esempio, la scuola. Sento grande opposizione a livello nazionale perché la scuola possa essere gestita a livello regionale. Noi abbiamo in questo momento la competenza sugli istituti professionali e la regione Veto a inizio anno riesce a dare i docenti e gli insegnanti che iniziano dal primo giorno e arrivano fino all'ultimo. Perché lo Stato non riesce a farlo? Noi riusciamo e pensiamo che qualcosina di buono possiamo fare. Ma penso anche aiuti alle imprese, penso anche al delega ambientale che possano velocizzare il modo in cui la pubblica amministrazione si confronta con gli imprenditori. Quindi speriamo sia la volta buona per fare qualcosa di utile per riformare il Paese. Per altri contenuti video cliccate i riquadri qui a fianco e per non perdervi i nuovi contributi iscrivetevi al canale. Grazie per la visione.